E' la dimensione dell'Europa del popolarismo che si oppone a quella del populismo. Con queste parole padre Occhetta ha iniziato il ricordo di David Sassoli all'incontro nazionale di Ariadem al centro convegni Sant'Agostino di Cortona. Dopo il saluto del segretario provinciale del PD Francesco Ruscelli l'incontro è iniziato proprio con il ricordo dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli scomparso prematuramente. Discutere di politica nei grandi partiti è sempre utile confrontare idee. Le scelte arrivano dal confronto delle idee e Cortona negli anni ha sempre dato un grande contributo all'unità del Partito Democratico e all'elaborazione di nuove idee. Grazie. La convention è poi proseguita con gli interventi del ministro della difesa Lorenzo Guerini e il ministro del lavoro Andrea Orlando. Oltre a loro in sala anche Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri alla Camera. Una tre giorni che vedrà anche l'atteso confronto tra il segretario del PD Enrico Letta e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'incontro nazionale di Ariadem, infatti, oltre a trattare i temi di stretta attualità, dovrà anche gettare le basi per il cosiddetto campo largo di sinistra. È un campo sul quale dobbiamo continuare a zappare, perché non c'è soltanto un tema di giusta posizione di sigle. C'è l'esigenza della costruzione di un'identità. Che cosa vuol dire al Paese questo campo? Come vuole governare il Paese nei prossimi anni? Io penso che questo sia il punto di partenza. Il PD può svolgere una funzione, anzi svolgerà una funzione fondamentale. Le distanze e le vicinanze andranno misurate sulla base dei temi cruciali che stanno di fronte al Paese, che credo siano essenzialmente tre. Quello geopolitico che viene dalla guerra, quello dell'esigenza di dare una risposta al tema delle diseguaglianze sociali è quello della transizione ecologica. Queste giornate la siccità ci dicono che non è più accettabile nessun tipo di negazionismo su questo terreno. Il contro di stasera con Conte, secondo lei, getterà le basi anche per qualcos'altro? Io credo che questa sera noi avremo la conferma che si lavora per rafforzare sempre di più questo campo largo a cui ovviamente 5 Stelle fino ad oggi ha concorso e noi ci auguriamo e voglio continuare a concorrere.